Dopo quello dell'Agenzia Europea del Farmaco, il nuovo vaccino proteico Novavax sta per ricevere il via libera anche da quella italiana. È un'ulteriore arma potente, con un'efficacia di oltre l'89% per proteggere dal covid sintomatico, ha dichiarato il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Novavax si differenzia dai vaccini mRNA e da quelli a vettore virale e per questo potrebbe far briccia tra scettici e Novavax soft. In Italia si calcola che siano almeno 6 milioni gli adulti non vaccinati. Grazie per la visione!